Posizioni oltransiste e atteggiamenti strumentali da campagna elettorale. Così, l'assessore al bilancio del Comune di Teramo, Eva Guardiani, bolla gli attacchi del consigliere Manola Di Pasquale e dei gruppi dell'opposizione, Partito Democratico e Teramo Cambia, che hanno attaccato la Giunta Brucchi sulla liquota fissata al massimo per la Tasi e i criteri per le detrazioni. Una tassa prevista dal Governo che noi abbiamo applicato, ritengo nella maniera migliore, visti i tempi e vista anche la situazione in cui versa il Comune di Teramo. Un'attenzione che è stata data, nonostante dicano il contrario gli amici del PD, un regolamento che tiene conto assolutamente delle fasce più deboli. È naturale che avremmo preferito anche noi applicare lo 0 per 1000 per la Tasi, ma questo naturalmente non è consentito proprio per garantire i servizi che il Comune deve comunque garantire a ogni cittadino. Siamo pronti comunque a rivedere il regolamento nel momento in cui ci accorgiamo che i numeri sono diversi, saranno diversi rispetto a quelli preventivati. Questa soluzione è stata ben accettata da una parte dell'opposizione e di questo veramente sono contenta. Il Consigliere Pomante, anche da parte del Movimento 5 Stelle, c'è stata un'apertura che noi comunque auspicavamo e auspichiamo anche in futuro. Da parte del PD questa volta, naturalmente, questa apertura non c'è stata, ma la speranza è l'ultima a morire, quindi riteniamo che sia opportuno credere che anche in futuro, quando si parla di interessi dei cittadini, della collettività tutta, si possa portare avanti il discorso insieme senza naturalmente vedere gli interessi della parte politica. Questo è giunto il momento proprio di fare dei discorsi che vadano a 360 gradi senza fare dei giochi di parte.